Con l'annuncio della curatela che comunica l'offerta vincolante di 5 milioni di euro da parte di Bobst, il puzzle Cerruti sta pian piano prendendo forma. Le ultime tessere a trovare all'incastro sono quelle relative alla data in cui si verificerà l'asta, il 30 giugno, la possibilità di ricevere offerte da eventuali compratori entro il 29, e che nel prezzo d'acquisto sarà compreso anche l'indennizzo per i lavoratori che era stato pattuito al momento della costituzione dell'Agnuco, a montante e a 15 mila euro per dipendente, per un totale di circa 1 milione e 800 mila euro. Domani un'altra tessera dovrebbe uscire fuori dal tavolo con rinascita, che sembrerebbe poter promettere un'assunzione di lavoratori maggiore e la permanenza dello stabilimento in via Adama, Casale e Monfarrato. I numeri dell'offerta di Bobst non hanno entusiasmato i sindacati sia per entità economica che per forza lavoro assorbita negli stabilimenti di San Giorgio e Monfarrato, con ancora l'incognita della cooperativa dei lavoratori che potrebbe essere decisiva, come ci spiega Maurizio Cantello, delegato FIOM. Rimane prioritario per entrambe le trattative però che si faccia chiarezza su alcuni punti. Primo, quante persone verranno riassorbite? Quindi il tema è la tenuta occupazionale. Per Bobst ci sono 30 più la cooperativa, bisogna capire di cosa si tratta realmente nei numeri. Per rinascita si parla di 55 persone. È chiaro e eventuale che comunque questi numeri per noi a livello sindacale sono ancora troppo bassi. La qualità dell'assunzione. Quando si parla di cooperativa bisogna capire effettivamente quella che è un'eventuale condizione di accordo di lavoro. dove si opererà, in quale sito. È chiaro che quello crea la qualità di quella che è un'eventuale assunzione appunto di quelle persone della cooperativa. La tenuta in prospettiva dei due progetti. L'impegno industriale negli anni. Questo è importantissimo. È importantissimo per le persone e per il territorio. E infine la gestione di un eventuale piano sociale per chi non dovesse essere assorbito in una nuova società.